Abbiamo tutti in testa, io per primo, insieme al municipio, le immagini scioccanti delle alluvioni, per cui il mio primo impegno è stato mettere in sicurezza la valle per rendere così sicura l'intera città. Questa è la ragione per cui stiamo completando lo scolmatore del ferrogerale. Abbiamo inoltre valorizzato il centro storico e il commercio locale attraverso la riqualificazione di via Borgo dell'Incrociato. L'importante è stata l'opera di rinnovamento di Piazza Martinez che è inaugurato, vedendo nascere un luogo di aggregazione per l'intero quartiere. Se prima parte dell'ex mercato di Corso Sardegna era di Amianto, adesso abbiamo un luogo che ci impegniamo a valorizzare con la partecipazione dei cittadini, come con il recupero della facciata del mercato stesso. Queste opere sono solo l'inizio per dare speranza a questa parte di città. Ma par bisogno può quindi guardare con fiducia al futuro e con lei tutta Genova. Il cuore di Genova per noi in ogni quartiere. Sono il candidato a sindaco per Genova per il centro-sinistra. Se anche tu ami la nostra città, il 25 giugno vota Gianni Crivelli.